Yeah, yeah, bentornati, ladies and gentlemen, signore e signori, messieurs, madame, dopo quasi oltre sette mesi di lavori riparte il palinzesto di Radius Music e stasera ritorniamo con la nostra trasmissione di punta House in the House, tantissime novità, tantissimi tantissimissimi ospiti speciali, per voi in studio Edoardo Serra, tecnico Marco Giovacchini, selezione musicale Stefano D'Andrea e ovviamente ospite d'onore, un grandissimo DJ che ha lavorato in tutta Europa, di collegamento telefonico da Cagliari, Sandro Marini DJ, ma intanto andiamo con la sigla storica di House in the House, this is the music, this is the radio's music, everybody come on! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501